Oggi è domenica, 17 settembre 2017, prima gara di campionato della seconda categoria Girone E, qua al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano. Oggi si affronteranno le compagini della Virtus Castelfrentano, giocheranno con la maglia bianca con risvolti giallorossi. Adesso vediamo che c'è la fase di riscaldamento, a questo lato c'è la Virtus Castelfrentano e a questo lato c'è Draghi Sanluca di Atezza. È la prima di campionato, la gara inizierà alle ore 15.30. Il direttore di gara designato per questa gara è il signor Spera della sezione AIA di Basto. È stato allestito anche una postazione, il ristoro, tipo bar, qua c'è la panchina, ci sono i dirigenti, c'è il dirigente Massimo Nasuti, il presidente Gianni Pasquini, siamo il segretario Alessandro Russo, la dirigenza tutto a posto, tutto bene. E dopo c'è anche il sottoscritto, il vice presidente, il cavaliere Carlo Iocco, che sta sempre dietro l'obiettivo. Fase di riscaldamento, i ragazzi sono caricati per questa prima di campionato e non vogliono sfidurare. Il Manterboso, dopo i lavori di concimazione dell'altra settimana, ha ripreso un po' il suo aspetto di una volta. Potevamo farlo riposare ancora il Manterboso se il calentario ci dava come prima gara fuori casa, invece no. Comunque la pioggerella dell'altra settimana è stata salutare per la rinascita dell'erbetta. Ecco mister Marco Piccirilli all'esordio. Come si sente mister? Tutto caricato, i ragazzi? Sì, al punto giusto. Abbiamo il nostro team manager Travaglini. Siamo il team manager Travaglini. Siamo il team manager Travaglini. Siamo dentro? Alla fine. I ragazzi com'è che entrono? Entrano... Siamoci un attimo a... Sì, sì. Qua in fondo abbiamo i ragazzini della scuola calcio... ne sono 5-6 le porte sono tutte apposte sì, per cui sia è stato verificato ecco i ragazzini della scuola calcio che entreranno in campo il ragazzo con la divisa da portiere entrerà con l'arbitro sì sì così si nota la differenza i primi due vanno per mano dei rispettivi capitani delle due squadre e a seguire anche gli altri ecco vediamo come ti chiami? Sergio bravo dove giochi? a che categoria? il tuo mister come si chiama? Gabriele Di Felice Gabriele Di Felice è il tuo mister il tuo mister? Giuseppe Giangrisso il tuo mister? Giuseppe Giangrisso il tuo mister? Peppino Giangrisso Peppino Giangrisso a te Nico chi è l'allenatore? chi è? l'allenatore tuo? il mister? come si chiama? lo faccio come si chiama il tuo mister? me ne sa oddio aiaiaiaia a posto va bene ragazzi non fatevi male state qua che quando viene si 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 aspetta un qua già l'ho detto all'arbitro allo stricione ha preso un po' di vento deve essere ributtato si prevede una buona affluenza di pubblico adesso i calciatori sono rientrati negli spogliatoi per l'appello dell'arbitro l'identificazione mi ci porto anch'io perché faccio parte della distinta ok chiudiamo ok chiudiamo e aspetta